L'Unione Scolastica Regionale Sicilia di Enne Caltanissetta, in collaborazione con il Comune Nisseno, ha organizzato un incontro sul valore dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato ai fini dell'orientamento scolastico. Il convegno, che si terrà il 14 marzo presso il Teatro Regina Margherita, ha l'obiettivo di comprendere la riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e le relazioni tra le scuole e le imprese del territorio, con l'intento di accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro. È necessario informare i giovani per orientarli nella costruzione del proprio percorso di vita e della carriera professionale. Oggi, più che mai, recita la nota ufficiale, è difficile individuare un settore che li porti al lavoro sicuro. La scelta della scuola e dell'università è sempre più complicata perché è importante per loro affacciarsi sul mondo del lavoro. Ecco che fare esperienza anche durante gli studi può essere utile non solo per capire meglio cosa può riservare il futuro, ma anche per comprendere quali possano essere le situazioni e le relazioni più utili a generare opportunità in linea con le loro vere ambizioni. Il ragazzo che segue un percorso di studi formativo deve anche essere messo nella condizione di poter sviluppare la capacità di gestire e risolvere situazioni problematiche, imparare a svolgere il proprio ruolo, assumendo una prospettiva diversa, come se quel ruolo fosse la propria impresa. In questo scenario rivestono una grande importanza sia l'apprendistato, che comincia mentre si è tra i banchi di scuola, che la presenza di istituti tecnici superiori, ovvero istituti che nello specifico preparano i giovani all'ingresso nel difficile mercato del lavoro per esercitare professioni qualificate. Solo se debitamente guidati, conclude il comunicato, i nostri giovani saranno in grado di affrontare il mondo del lavoro con più consapevolezza e competenza.